Ciao, oggi vogliamo parlare del problema delle ferite dell'aria condizionata. Quest'anno il prezzo del gas ha raggiunto dei prezzi troppo elevati. A causa di questo aumento anche la ricarica della climatizzazione costa molto di più rispetto alla scorsa estate. Purtroppo può succedere che dopo aver caricato l'aria condizionata e passati due o tre mesi, oppure semplicemente da un anno all'altro, ci troviamo improvvisamente con il condizionatore scarico. Questo può avvenire per diversi motivi. Una delle cause principali sono le micro perdite dovute alle micro fratture che troviamo nell'impianto della macchina. Le perdite sono molto difficili da individuare e molte volte utilizzando anche i traccianti che ci sono nel mercato non si riescono a vedere. Noi abbiamo deciso di utilizzare un sistema che si frutta l'azotto. Questo è il sistema di cui stiamo parlando per controllare le micro perdite. Colleghiamo il sistema all'auto inserendo l'azotto. Si collegano i manometri attraverso questo sistema e si mette in pressione l'impianto. Ecco, adesso l'impianto è pieno di azotto. Adesso tramite il sensore andiamo a cercare la fuga. Posizionando il sensore lentamente vicino al tubo. Dovrebbe suonare in caso di perdite. Vediamo vicino ai connettori. Tubo in gomma. Controlliamo nelle giunture i gommini OR. Qua è tutto a posto ancora, vedete? Ecco trovata la perdita. Il punto più o meno è questo. Ecco. Ecco qua. Sta perdendo. Come sentite il rumore è cambiato perché c'è l'uscita dell'azotto. La perdita è proprio in questo, è una micro frattura invisibile o chiunudo. Adesso abbiamo trovato il punto in cui quest'auto perdeva il gas. Adesso che abbiamo trovato la causa della perdita possiamo procedere alla riparazione. Ecco qua. Abbiamo cambiato il tubo che era la causa dei nostri problemi. Adesso possiamo procedere con la ricarica perché il problema ormai è risolto.